Eccoci con il nostro Brut a base di uve bellone, un'antica uva romana, nota anche come uva pane. La seconda fermentazione lo fa con il classico, tradizionale metodo Martinotti. Il vino sosta sui lieviti per almeno tre mesi. Al bicchiere mostra un perlage piccolo, fine, persistente e al naso ha delle invitanti note croccanti di frutta fresca. Mela, tè verde, erbe, in bocca è sapido, fresco ed è perfetto per un abbinamento con i classici fritti romani.